Musica Sono tu, eh? No, no. Hai? Ne hai persa, tu? No, no. Eh, che c'è? Hai studiato. Sono affari miei. Senti, ho trovato queste, cosa sono? Come cosa sono? Stupide, sono chiavi. Sì, sono chiavi, le vedo, ma dico... Io ho domandato dappertutto, nessuno... Nessuno le ha perdute? Nessuno le ha perdute, sì. Oh, disgrazia dello parlare, non alzare la voce. Eh, queste chiavi sono la nostra fortuna. Perché? Eh sì, con noi con queste chiavi possiamo aprire tutte le porte. La libertà, libertà, se queste chiavi vengono come il caccio sui maccheroni. Ehi là, lo piccato. Hai sempre l'idea dell'evasione? Si capisce. È ovvio. Ma non so, guarda che chi è che arriva, arriva. Buongiorno. 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 Cerca forse qualche cosa. Sì, perché l'avete trovato voi? Che cosa? Quello che ho perduto io. Cosa ha perduto il signore? Cosa ha perduto lei? Io ho perduto le cose là. Come si chiama? Aiutatevi a dire, le... Le nacchere. Le nacchere? Le nacchere. No. Ma che nacchere? Io perdevo le nacchere. Le ha fatte così. Ma che nacchere d'Egito? No, 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 le nacchere sono spagnole. Eh, ma insomma, siamo stati... Ma che me ne importa a me? Come me facevo a perdere le nacchere? Che vado in giro con le nacchere io? Non è che dico io, che il secondino va in giro con le nacchere. Io sono il superiore, non sono il secondino, ricordatelo. Ma sì, signore. Non sono le nacchere che ho perduto. Cosa ha perduto? Ho perduto il coso, il cavallo? Il cavallo. Il cavallo? Ma no, il cavallo. Cavallo. Perdevo un cavallo. Non lo so, domanda. Se delle volte uno lo può anche perdere. Esatto, un superiore cavallo dentro le carceri. Ma vale il mio piacere. Per fare più svelte. Non diciamo stocchezza. Sì, sì. Non era un cavallo. Cos'è? Oh, un asino. Un asino. Un asino a cavallo? Un asino a cavallo. Sì, i cavalli vanno... I cavalli... I cavalli vanno a cavallo adesso. Ma vogliamo finire. Lei va a cavallo. Ma che vanno a cavallo? Io vado a cavallo. Ma che me ne importa? Io sono stato in cavalleria. Oh, sì? Lui sì? Ah, sì? Io ero fantino a cavallo. Poi l'hanno appiedato. Non me ne importa niente. Ora è anche a mesa. Comunque non ho perduto né un asino né un cavallo. Oh, per barco. Quello che ha perduto sono le chiavi. Ah, le chiavi! Sì, signore. Trovate chiavi tu? No, io no. Non le avete trovate? No, no, no. E beh, mi dispiace. Anche a noi. Mi dispiace perché vedete, se qualcuno avesse trovato quelle chiavi, potrebbe anche aver diritto ad un trattamento di favore. Ma se comunque non le avete trovate voi, pazienza. Arrivederci. Oh, trattamento di favore. Ragioniere, eh! Ragioniere! Ma che ragioniere? Non sono ragioniere, è superiore. Lei per noi è un ragioniere superiore. Sì. Ci vuol dire per cortesia entrambi. Sì. In che cosa consiste questo trattamento speciale? Che so, per esempio in un vitto migliore, come quello a cui vuoi aspirare. Fettuccine, tagliatelle, pasta asciutta, spagna. Agnorotti, agnorotti. Agnorotti. Mi piacciono gli agnorotti. Allora due porzioni. Sì, a me sento formaggio. A me con un pizzico di pepaccio. Ma noi che siamo in trattoria qui, non so, per dire. Tutta questa roba, per esempio anche vino. Ecco, vino a volontà. A me asciutto pastoso. No, io, a me birra, a me birra, a me birra. E già perché lui beve birra, io campo 100 anni. Ma sì, vino, birra, formaggio, frutta, sigarette agliosa. Ma tanto le chiame, non le avete trovate voi? Sì, no, paziente. Oh, sigarette agliosa. Commentatore. Ah, e dai, commentatore superiore. Non è commentatore? No. La faranno commentatore? Questa glielo garantisco io, che sono un musicista. Va beh, che senta. E questa è sigaretta agliosa, di che marca sarebbe? Eh, che marca? La marca che uno preferisce. Nazionale, estere, tutto quello che volete. La quantità, venti. Varie, varie, varie. Ma sì, venti. E quanta, quanta, perché io fumo morto? Sì, trenta, quaranta, va. E noi dobbiamo fare una sessantina. Eh, sì, sì, e io due toscane al giorno. Sessanta sigarette, due toscane al giorno, riviste, libri. E magari anche la riba è uscita una volta alla settimana. E sa che cosa si dico, signor Menager? Che cosa? Che se lei aggiunge, è vero, a tutto ciò che ha già detto, è vero, una camera, cioè una cella singola, con sala da bagno annessa, con una cameriera giovine, friulana, a tutto fare, e con un televisore a 26 pollici, due canari, uno per me, uno per egli. Eh, no, al massimo sono 24 pollici. Non si preoccupi, gli altri due pollici ce li mettiamo. Va beh, allora... Siamo uomini di molti. Se vi do questa roba... Le chiavi sarebbero sue. Eh, benissimo, tutto quello che volete, meno che la cameriera friulana... E allora niente chiavi. No, 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 venite qui, venite qui, avanti, su. Non vorrete mica essere così cattivi. Ma andiamo, io mi... Non te ne da fronte le donne, non te ne da fronte le donne. No, sì, io mi rivolgo al vostro buon cuore. Ragazzi, pensate che anch'io sono un padre di famiglia. Se qui la direzione sapesse che io ho perduto le chiavi, mi licenzierebbe in tronco. Oibo. Pensate, tutta una famiglia sull'astrico. Ed è una famiglia numerosa. Figli? Allora, otto figli. Otto figli. Capezzoli. La moglie è incinta. Ma lei però, uè... Lei fa lo straordinario. Se volete, la vita è fatta così e non è tutto. Su mio nonno, che è paralitico. No, il nonno, paralitico. Paralitico. Sulla sedia. A rotelle. A rotelle. Pattina, pattina a rotelle. Che pattina a rotelle, ma sulla sedia con la sedia. A rotelle, a rotelle, paralitico, no? Paralitico di rotelle. Ma non mi importerebbe niente del nonno. Se non fosse per la nonna. Anche lei, a rotelle. Ma che? Disgraziata famiglia. La nonna. Giustizia sociale. La nonna è morta. Con le rotelle. Lo vede, lo vede, chi va con le rotelle e muore. Ma che con le rotelle è morta dieci giorni fa. E noi ancora non troviamo le rotelle. Le rotelle per portare la cimiteria. Perché le rotelle non troviamo ancora la somma necessaria per costruirgli una tomba. Una bella tomba a rotelle. Che specialmente in discesa fila, bella, con via, volate al cimitero. Largo, arriva la nonna, la tomba con le rotelle. Brrrr. 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 Anche vi prego, se non volete farlo per me, fatelo per dare una tomba a mia nonna. Datemi le chiavi. Queste sono le chiavi. Buon uomo. Compri le rotelle a sua nonna. Compro tutto. Compro tutto. Ma tu sta fermo con le mani. E adesso che mi avete dato le chiavi, pensate a lavorare. Altrimenti vi metto in cella di segregazione. Capito? A lavoro. Hai capito? Io ti spaccare la testa. A me? Perché gli hai voluto dare le chiavi per forza? Io? Te sei commosso. Te sei voluto la lacrimuccia, come il formaggio parmigiano. Cretino. Cosa ce ne frega a te delle rotelle della nonna? Che anche la moglie, la zia, la sorella, la pianina del... Cosa ce ne frega a te? Disgraziate che non sei altro, vado a dormire, se no ti ammazzo.